Nuovo confronto, forse quello definitivo fra le associazioni dei commercianti ed il comune di Salerno sulle luci d'artista, le consuete illuminazioni artistiche che vengono riproposte da anni dall'amministrazione del capologo nel periodo natalizio. Ho deciso il giorno di inaugurazione dell'evento che sarà il 3 novembre, ho ufficializzato anche un gemellaggio con Stoccolma, dalla Svezia arriveranno delle renne luminose, da Salerno invece partiranno delle vele che saranno installate a Stoccolma, sarà spostata anche la slitta che andrà in piazza Gian Camillo Gloriosi. La Camera di Commercio ha anticipato che ha deliberato già il contributo dei 300 mila euro dell'anno scorso e che speriamo che possa pervenire al più presto e abbiamo anche complessivamente il gradimento delle associazioni sull'iniziativa stamattina. Ovviamente siamo in un momento di crisi, Salerno non abbassa la guardia. Novità anche per quanto riguarda la raccolta fondi per sostenere l'amministrazione comunale. Abbiamo raccolto con ottima disponibilità questa petizione di oltre 50 tra ristoranti e pubblici esercizi che si offrono per contribuire agli eventi e anche per adottare quote di verde pubblico. In questo caso abbiamo pubblicato sul sito del Comune Liban il conto corrente presso il tesoriere Montepaschi dove è possibile con la causale lucida artista o contributo agli eventi per tutti i cittadini, non soltanto per i pubblici esercizi e i commercianti, contribuire volontariamente agli eventi che tiene in piede il Comune di Salerno e l'amministrazione. Intanto si stanno studiando diverse soluzioni per cercare di migliorare l'accessibilità al centro di Salerno nel periodo natalizio ed anche per rispondere alle critiche dopo la decisione di raddoppiare il costo orario del parcheggio interrato dell'ex cementificio alla luce della mancata apertura del multipiano di Piazza della Libertà. L'assessorato alla mobilità sta valutando l'attivazione di una seconda navetta, a quella in partenza dallo Stadio Arecchi si affiancherà anche un'altra da Piazza Ligea. Allo studio anche un accordo con le ferrovie dello Stato per un prolungamento serale dei treni regionali per le luci d'artista. Allo studio anche un'altra da Piazza Ligea.